Si può fare di più perché dentro di noi si può fare di più senza essere noi Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma dicendo se può dare di più Infermiere Mauro Patti, caposala del reparto di Alisi di Sestre Levante presta un'assistenza altamente professionale, attenta ad ogni aspetto clinico, relazionale ed umano di ciascun ammalato Con dedizione e discrezione, prende in carico i pazienti per tutto il percorso dialettico alleviando le loro sofferenze ed aiutandoli a sopportare il cambiamento radicale di vita lo stress fisico ed emotivo che il loro stato inevitabilmente incoporta Nell'appuntamento pressoché quotidiano, tassativo ed improrogabile con la dialisi è attento alle sensazioni e agli stati d'animo degli ammalati che accoglie con un sorriso creando in reparto un ambiente familiare e sereno sa affrontare le situazioni più difficili con ponderazione e determinazione non facendo mai finire meno nel complicato cammino della dialisi Non si limita alla fredda consultazione dei referti e delle cartelle cliniche ma si dedica in modo particolare alla visita e all'incontro con l'amalato, che costantemente segue anche dopo l'adegenza ospedaliera. Pone il paziente al centro dell'attenzione, ascolta i suoi bisogni e la sua esperienza della malattia, per farlo sentire meno solo, per fargli accettare la situazione ed essere determinato ad affrontarla. Sapiente ed umano, non lascia nulla di intentato nelle cure, rapportandosi in modo delicato e sincero con gli amalati e i loro familiari, sempre disponibili a prestare conforto. Per tali doti morali e professionali, il Comitato Assistenza Malati del Ticulio è onorato di conferire al gruppo Pier Giorgio Gatto il premio Scolapio 2015. Un saluto a tutti, ci ritroviamo per il 26esimo Scolapio d'Oro 2015 del Comitato Assistenza Malati Tiguli Onlo su Lavagna. Giancarlo Mordini è Presidente, anche quest'anno avete centrato le due persone premiate. Ancora una volta, sono due persone che hanno riscosso grandi consensi, sia l'infermiere caposala, il signor Pappi, che il dottor Pier Giorgio Gatto. Quindi noi quando abbiamo i consensi per noi va molto bene, quindi siamo contenti e facciamo i complimenti. e soprattutto queste due persone sono da stimolo per tutte le persone che lavorano nella sanità. Ci troviamo al Gran Castello di qua a Sessi Levante, ma come fate ogni anno a trovare due persone così brave in gambe? Vuol dire che l'ASL 4? Sì, ci sono le segnalazioni. Noi riceviamo segnalazioni dalle persone, annotiamo e poi facciamo le nostre valutazioni. Naturalmente facciamo le nostre indagini e se vanno bene procediamo a queste nomine. Le abbiamo già intervistato il giorno della consegna sulla carta, conferenza stampa. Come sono stati questi giorni? Bene, credo di aver avuto la felicità di tante persone che mi hanno mandato messaggi, mi hanno telefonato soprattutto malati, pazienti che ho seguito, parenti di pazienti e anche qualche collega con cui lavoro quando faccio esami in sala operatoria e persone che mi hanno fatto felice perché hanno dimostrato amicizia e rapporti buoni fra di noi che sono la base per poter lavorare e lavorare bene nell'interesse del paziente. Posso intervenire? Posso intervenire e devo informare, me ne ero dimenticato, ma nei giorni scorsi io ho avuto una lettera di congratulazione dal suo collega dottor Antonello Nicolini, il quale si è profuso in spertircate lodi nei suoi confronti e si è dichiarato molto contento e mi sono dimenticato. Io lo comunico ora. Facciamo in diretta. La ringrazio. Io d'altra parte già l'altro giorno avevo diviso questo premio con gli altri miei tre colleghi della preomologia perché appunto il servizio di preomologia, la divisione è stata diciamo smembrata, sono rimasti quattro medici che hanno tutti purtroppo la stessa età e quindi cercano in qualche modo di affrontare all'interno della divisione di medicina i problemi e le malattie respiratorie. Certamente in quattro con le patologie respiratorie che ci sono nella nostra zona è veramente dura. Io vorrei aggiungere ancora un'altra cosa, però c'è un germoglio nel vostro, c'è qualche d'uno che comincia ad apprendere. Ci spieghi un po'? C'è una, è stata assunta, come poi vi può dire il primario dottor Scudeletti, una nuova assunta che però fa parte della medicina e che comunque il lunedì e il giovedì viene in sala ad eseguire, a imparare piano piano le endoscopie, la toracoscopia, i drenaggi toracici, le pleurodesi, queste cose che facciamo. Certamente dobbiamo assolutamente difendere la pneumologia, questo è quello che faccio e che il signor Mordini mi ha aiutato e mi continua a aiutare a fare perché credo che sia assolutamente necessario che nella nostra area ci sia almeno un servizio, almeno una struttura semplice di pneumologia. Allora vicino ai medici da sempre ci sono stati gli infermieri e da sempre il premio all'esculappio lo dimostra da tanti anni, quest'anno il 26esimo, il caso di Mauro Pavi. Sì, ringrazio il comitato, ringrazio il signor Mordini per questo premio che mi è stato assegnato, ne farò tesoro, è stato un periodo bello da quando è uscito il mio nome, ho ricevuto un sacco di congratulazioni da persone che conosco, da persone che a volte conoscevo anche poco, che ho magari solo intravisto e mi ha fatto molto piacere sia per me sia per tutto il nostro reparto perché questo premio viene assegnato a me ma come ho già detto in precedenza lo sento anche di doverlo dividere con tutto il reparto e tutto il personale con cui tutti i giorni lavoro. Vedi il papi, l'amico papi, il figlio dell'amico papi ha un ruolo importante ma anche molto pesante ed è particolarmente meritevole perché sono, quanti anni sono che tu lavori in dialisi? In dialisi sono 22 anni, 22 anni ci si logora in questo reparto, diamo proprio credito a questo ragazzo perché è un lancunficio nei miei confronti perché ha fronte molto forte e gli auguriamo di continuare ancora. Bene, poi ritorniamo, facciamo un giro di saluto, qua c'è il referente, il suo primario mi sembra, no? Allora diciamo una parola sull'infermiere Papi e un pochino qualcosa sul vostro reparto a stessi davanti. Io sono veramente felice di questo premio per Mauro perché è assolutamente come dicevo nella conferenza stampa meritato, il nostro è un lavoro abbastanza complicato su pazienti cronici purtroppo, anziani, molto fragili, quindi l'aspetto umano che è un po' anche la ragione di questo premio è assolutamente importante e Mauro a parte le capacità tecniche ha una grande umanità e quindi questo ci fa anche lavorare meglio, un ambiente assolutamente sereno e molto importante, quindi è proprio meritato. Se dovesse proprio scrivere una cartolina da reparto vostro cosa scriverebbe? Per Mauro? No, per tutti i reparto, un voto insomma nell'immaginario, per il vostro reparto? Per il nostro reparto? Ma un bel voto, sicuramente una buona, un otto, nove. Fra 50 anni sempre qui? Assolutamente, noi cerchiamo sicuramente come diceva Mauro di migliorare e penso che l'entusiasmo ce l'abbiamo, quindi sono contento. Tra l'altro lei ha capito che la persona che, insomma, quando si va a fare un'analisi e la prima che scopro gli viene qualche dubbio che poi bisogna procedere, da lì inizia un percorso credo a volte lunghissimo. Lunghissimo no, però impegnativo, importante da sopportare anche per la paziente. In pensione, insomma, lei è ancora giovane, come ha fatto ad andare in pensione? Ho lavorato da giovanissimo e ho colto l'attimo perché non si sa mai con l'aria che tira. E chi ha lasciato in eredità? I miei colleghi di prima, amici e validi professionisti. E si sta bene in pensione? Si sta molto bene e volevo ringraziare Mordini per avermi invitato perché per me comunque è come se fosse un premio alla carriera. E un medico in pensione continua un po' sempre a fare il medico o no? Si, se vuole, si. Io faccio qualcosa, poco, perché poi se uno fa delle scelte dovrebbe essere conseguenziale, direi. Però può fare quello che crede, certo. In questi giorni leggevo qualcosa sui medici di famiglia, se non vado erato. Proprio in questi giorni. Assolutamente sì. Sì, si è parlato perché finalmente è stato firmato l'atto di indirizzo fra le Stato e le Regioni e quindi si prevede un progetto di riorganizzazione della medicina generale. Ma io qui vorrei parlare della serata. Intanto ringrazio chi mi ha invitato a Mordini perché sono davvero onorato di essere qui come ospite, ma soprattutto sono felice di essere qui per Giorgio e per Mauro, che conosco da tantissimo tempo. Mauro credo che abbia cominciato a fare l'infermire quando io facevo l'interno in medicina. Ma soprattutto perché? Perché nella nostra ASA abbiamo la fortuna di avere un ambiente dove più o meno ci conosciamo e quindi il rapporto fra territorio e ospedale è qualcosa di più che da altre parti non hanno. Quindi telefonare in pneumologia e sentire gatto perché ho un problema con il mio paziente in pneumologia per me è avere davvero le spalle coperte come per quanto riguarda la dialisi anche a Rani, piuttosto che Mauro e per altri reparti. Quindi il discorso della medicina generale è quello, la collaborazione fra ospedale e territorio. Per finire mi sembra che siamo il medico di famiglia, soprattutto chi magari pensa di studiare o di farlo un domani sia il paziente, la persona che ha qualche disturbo eccetera, il primo passaggio dal medico di famiglia, perciò un ruolo fondamentale anche come indirizzo dopo. Io sono contento di aver fatto questo lavoro ormai da oltre 30 anni, se tornassi indietro devo dire che lo rifarei perché ho un ottimo rapporto con la gente, con quelli che mi hanno dato la loro fiducia. Siamo effettivamente la prima porta del sistema. Se sbagliate voi? Quello è importante e soprattutto sono orgoglioso di, tra virgolette senza presunzione, di allevare dei medici che vogliono fare il medico di famiglia perché credo che sia un ruolo molto importante. Bene, qua abbiamo dei volti noti, tra l'altro io credo che anche da casa è Giancarlo. Chi vede un volto che in maniera diretta o indiretta per parenti o familiari è un volto amico. Esco, dei letti? Speriamo di sì, io sono al diciassettesimo anno qua nella ASL, mi sento uno di qua e volevo solo aggiungere che essendo come primario della medicina, avendo ereditato per questioni amministrative di contenimento dei costi, non certo per questioni di smembramenti, che anzi sinceramente non era quello lo scopo e non lo è, abbiamo fuso la medicina e la pneumologia, stiamo lavorando bene, hanno una loro spazio. Io non ho prevaricato assolutamente, ho cercato di dare a chi voleva fare di fare e Giorgio devo dire al di là di tutto che l'avete premiato come medico, come uomo e si comporta con i colleghi come si comporta nella vita, come è logico, cioè con molta disponibilità. Se c'è un problema si risolve insieme, ha dato disponibilità per dare una mano alla parte medica del reparto che è molto pesante, perché per avere i letti pneumologici abbiamo un carico comunque distribuito su tutti e quindi devo dire che sono veramente contento e ci tenevo a dire, senza togliere niente a nessun altro dei miei collaboratori, che lui proprio umanamente ha dato sempre la sua disponibilità sincera e vera e senza nessuna remora. Ecco, questo credo che lo meriti. Tra l'altro il reparto di medicina e pneumologia, di là che adesso collaborate anche come spazi, ma c'è sempre una collaborazione, c'è sempre stata, no? Certamente, di fatti la mia picca di ormai, anche se Giorgio non è un ragazzo, io sono purtroppo un tantino più vecchio, dico specializzatevi sempre più, diventate sempre più potenti per la vostra autorevolezza, non per fare le cose che fanno gli altri, ma per fare quelle che solo voi sapete fare. Questa è la chiave. Ok, poi facciamo ancora un saluto. Gian Carlo, qua il dottor Mori ha una specialità particolare, molto importante. Certo, è un chirurgo addominale, un chirurgo proctologo, è una pedina molto importante nel nostro. Applica tra l'altro una tecnica particolare, no? Spieghi un po' la sua tecnica. Io sono un chirurgo della chirurgia di Lavagna che da tanti anni ormai si dedica tantissimo alla colon proctologia e devo dire che in questi ultimi anni grazie soprattutto a un mio collega che adesso non lavora più nella nostra azienda ma mi ha lasciato questo fardello. Facciamo una tecnica particolare, si chiama VAFT per le fistole anali, che ha avuto una risonanza internazionale e che sta richiamando nel nostro reparto pazienti affetti da questa patologia da tutta Italia. Abbiamo circa 650 pazienti che aspettano di essere operati da noi per queste fistole anali. Io in questi ultimi anni sono andato a far vedere questa tecnica operare in India, negli Stati Uniti, è stato un bagno così di apertura sul mondo, però sempre fuso con questo rapporto bellissimo che ho avuto con la popolazione qui da cui sono stato adottato da 17 anni e con la quale io toscano mi sono trovato veramente benissimo. Qua si parla di fughe. Sai come si dice qui? Un lobeviulegu ad ascemea. Giancarlo, ha capito? Giancarlo, si parla di fughe spesso dal nostro comprensorio, dalle Ligure. In questo caso un esempio che bisognerebbe investire, tirar fuori l'eccellenza. Esattamente, è questo che bisogna fare. Bisogna vendersi bene. Bisogna che in questo momento, anche nel nostro comprensorio a livello Regione Liguria, si sta parlando di sanità, qua dovrebbe essere un ramo verde di guadagno. Certamente. Questo l'assessore alla sanità l'ha detto. Vediamo che se viene messo in pratica. Cioè le eccellenze devono partecipare in tutta la Liguria. Se c'è un'eccellenza, anche dal ponente più lontano, deve usufruire di questa eccellenza. E così via. Al contrario anche. Bene, allora dottor Mori, abbiamo scoperto questa internazionalità. La parola è il figlio del dottor Gatto. Il figlio del dottor Gatto. Come ti chiami? Francesco. Allora, Francesco, andiamo un po' vicino al papà. Venga un po' il papà. In effetti vi assomigliate anche un pochino con la barba. Allora, avere un papà medico impagnato così tanto? Guarda, io posso dire che essendo nato negli anni in cui lui ha cominciato il suo operato all'interno dell'ospedale, tutto diciamo che sono cresciuto con lui e comunque ho potuto vivere proprio dal vivo il suo crescere all'interno del suo lavoro. Direi che passione e dedizione sono sicuramente le qualità che più lo hanno contraddistinto in questi anni. Sicuramente magari più che saperlo da lui lo vengo a sapere da altri perché chiaramente ogni volta che magari la gente mi incontra e mi dice ma tu sei il figlio del dottore, ah che bravo e tutto. Insomma, attestati che comunque ti inorgogliscono e sicuramente penso sia molto gratificante ricevere un premio così che penso che non sia solo un punto di arrivo ma dato che dovrà lavorare ancora qualche anno, voglio dire, penso sia sempre un incentivo a migliorarsi, questo funziona anche per me per quanto riguarda la mia vita, perciò io lo prendo da spunto. Tu cosa fai nella tua vita? Io vendo macchine. Ah vabbè ma la passione bisogna mettercela sempre. Facciamo anche un po' di pubblicità, la passione bisogna mettercela sempre, certo. Magari mi può rimproverare che magari ho dedicato troppo tempo al lavoro e poco alla famiglia. Succede. Questo sicuramente me lo possono rimproverare i miei figli e mia moglie. Un flash, Pia Giorgio. Da piccolo cosa pensavo di fare? Volevo fare il medico. Volevo fare il medico, sì. Ma non il pneumologo oppure sì? No, veramente avevo, diciamo, frequentato i primi anni la divisione di urologia di San Martino. Mi sarebbe piaciuto fare il chirurgo, non è stato possibile poi per vari motivi, però riesco comunque a fare, diciamo, degli esami e quindi sempre una pneumologia interventistica che mi appassiona sicuramente. Volevo chiedere all'infermiere premiato, se da piccolo lei cosa pensava di fare? L'infermiere? No, direi di no. È arrivato poi quasi, diciamo, per caso. Mi sono trovato, ho spinto dai miei genitori così all'inizio e poi pian piano, come tutte le cose, comincio a farle e mi sono trovato. Pian piano ho cercato di migliorare e poi il via, diciamo, la differenza è stata quando poi sono andato in dialisi che ho cominciato a fare questa attività, diciamo, un po' particolare, un po' diversa dal solito reparto ospedaliero classico. Io ho lavorato anche parecchi anni in medicina e da lì poi ho fatto caposala, ho fatto un po' di... ho avanzato un pochino. Ci trasferiamo anche a Rapallo in ortopedia, lei è primario da poco, credo? Eh sì, da tre mesi, da quasi tre mesi circa. Il posto del dottor Desirelli? Esattamente, sì, un bel impegno, una bella eredità sicuramente. Insomma, si parla tanto di ospedali, compreso quello di Rapallo, lei la prima impressione cosa può dire? Un ospedale nuovo, splendido, sale operatorie meravigliose, cerchiamo di lavorare al meglio per dare non solo qualità ma anche sicurezza al paziente, cerchiamo di gestire le problematiche ortopediche, noi ci occupiamo soprattutto di elezione, cerchiamo di gestire le problematiche ortopediche di elezione, badando non solo la quantità ma soprattutto la qualità, la sicurezza, cercando di prevenire le infezioni che in ortopedia purtroppo spesso sono devastanti, ce la mettiamo tutto per lavorare al meglio. Come si diventa primari? Non lo so, penso solo lavorando, lavorando e cercando di essere anche organizzatori e non solo chirurghi e poi ci si può arrivare come no, non è che sia fondamentale. La sua storia è iniziata come? La storia è cominciata nell'81 a Pietraligure e finirà qua. Finirà qua? Ma qua è arrivato adesso o c'era già nell'AS4? No, sono arrivato nel 2011 all'AS4 e poi dopo cinque anni ho avuto la fortuna di sostituire il dottore Isirello, che è un bel impegno sicuramente. L'esculapio lo conosceva questa manifestazione? Sì, sì, sì. Il reparto di traumatologia è già stato premiato con la signora Laura Mendo e quindi insomma lo conoscevo già. Bene, andiamo allora da Rappallo andiamo a Sestri, totalmente in un reparto diverso. Sì, l'oncologia è la nostra struttura, diciamo una vecchia tradizione perché sono molti anni che sta offrendo un servizio estremamente importante al Tiguglio. I pazienti che afferiscono a noi sono sempre numerosi e noi stiamo cercando di portare avanti questo lavoro di aiuto, oltre che di terapia anche proprio di presa in cura a 360 gradi del paziente dal punto di vista medico ma anche proprio come supporto psicologico, come percorso nel contesto proprio sociale della famiglia. È un lavoro faticoso però nel contempo anche è un lavoro che ci gratifica tantissimo perché il rapporto che instauriamo con i nostri pazienti, con i familiari è splendido e loro ci danno tanto, tanto, tanto. Quindi noi siamo estremamente riconoscenti ai nostri pazienti. In effetti voi tutti i giorni medici dovete anche incoraggiare i pazienti, no? Un po' l'allenatore che incoraggia la squadra ma lì magari si vince una partita sul campo di calcio, qua se ne vince un altro che la partita dalla vita e anche voi dovreste essere sempre molto positivi, positivi, trovate questa forza quotidiana? Ce la danno tantissimo loro. Noi abbiamo la forza perché ci viene dall'esperienza e ci viene anche dalla conoscenza di nuove terapie che ci sono e che continuano a esserci perché effettivamente nell'oncologia ci sono stati dei salti giganteschi e quindi tutto questo ci porta anche a proporre nuove terapie, quindi nuove possibilità al paziente. Nel contempo devo dire che loro stessi ci danno un aiuto, quindi è un lavoro di squadra che poi porta tantissime volte da un buon risultato. Non solo AS4 ma questa sera abbiamo anche insomma delle illustri genovesi. Sì beh io sono stato quattro anni qua in AS4 a Santa Margherita Ligure, un'esperienza bellissima e mi sono trovato molto bene e quindi mi fa molto piacere tornare sempre qua perché è un ambiente stimolante. Da Santa Margherita al Galliera? Sì io venivo dal Galliera, sono andato a Santa Margherita, sono tornato a casa al Galliera, adesso faccio il direttore sanitario, mi occupo di tutte altre cose che non la clinica e stiamo cercando di arrivare in dirittura d'arrivo per fare l'ospedale nuovo. Domandiamogli un po' a che punto è questo ospedale nuovo perché è già un po' che si sente parlare, la scorsa giunta metteva delle zeppe e dei bastoni nelle ruote e questa ha dato via libera, com'è la questione? Sì beh la regione è fortemente intenzionata a fare l'ospedale, quindi sicuramente lo faremo. Siamo in conferenza dei servizi che finisce il 19 di maggio, dopodiché possiamo passare all'appalto. Quindi tempi di... Cambiarizzazione possiamo pensare fine anno questo, inizio anno prossimo. Ma gli intendimenti come sono? Normale amministrazione o curare le eccellenze e curare per esempio la neurochirurgia che era un fiore all'occhiello e che bisognerebbe rinforzarla. Ci sono dei giovani lì da voi, tipo Calfas e i compagni che sono meritevoli, dargli fiducia a questa gente. Neurochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia maxillo-facciale sono i fiori all'occhiello, insieme con la radioterapia ed altri reparti. Sarà un ospedale come è adesso, di alta specializzazione, dove le grandi specialità devono trovare sempre maggiore sviluppo delle personalità mediche e non solo mediche, capaci di portarlo avanti. Bene, allora, Shumego, lei mi sembra che ormai cura a un certo punto, cura non tanto studiando ma con l'esperienza del sapere di tante esperienze. È vero o no? Il medico può ragionare così o no? Dunque, direi che sicuramente l'esperienza aiuta, però la medicina è una scienza così vorticosa che un mio vecchio professore diceva che non riusciva a leggere tutte le pubblicazioni migliori sulla tiroide, solo sulla tiroide. Quindi figuriamoci la vastità di tutte le materie della medicina. Però un po' bisogna studiare, tanto o poco, bisogna trovare il tempo di studiare perché poi il tuo sapere medico ogni sei anni diminuisce di mezza. Dopo dei gianni vinti non c'è niente. Era questo, forte e chiaro che bisogna studiare anche da tutte le parti. Il dottor Bugiano è stato un gran medico e continua a essere un gran medico perché all'esperienza aggiunge sempre lo studio continuo. Ricordiamo un po' la pressione giusta qual è in questo periodo? Adesso in questo periodo, perché anche lì ci sono dei cambiamenti, in questo periodo la pressione giusta per una persona a dieta media è 140-80 e non deve essere di più. Nell'anziano stanno perdonando, cosa che non facevano gli altri anni, un 150 e nel 90 neanche il 160 di massima. Ed estate? Ed estate cala un po', a volte cala in modo anche abbastanza vistoso, soprattutto nei soggetti ipotesi. Ed estate ci può essere una pressione molto bassa che può dare fastidio, però camperano 100 anni. E ancora un diciottenne la pressione quant'è? Un diciottenne è 110-70, 105-70, insomma è abbastanza bassa. La pressione è alta? Le arterie nuove, quindi elastiche. Bene, dai. Ci salutiamo, un augurio ai due premiati. Certamente, certamente, due persone magnifiche, sia l'infermiere sia il dottor mio amico Gatto. Bene, grazie. Allora Giancallo chiudiamo, chiudiamo, ci salutiamo tutti insieme, salutiamo il dottor Gatto, l'infermiere Papi, allora buon proseguimento. Ringraziamo tutti, tutte le persone che sono venute stasera, ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto fino adesso e continueranno a sostenerci, io credo. L'infermiere Papi. Anche da parte mia un ringraziamento a tutti gli intervenuti, al comitato malati del Tiguglio, al signor Mordini. Niente, augurio soprattutto ai malati che verranno da noi e speriamo di riuscire a dare le risposte giuste, come cerchiamo sempre di fare. Bene, grazie Giancallo, salutiamo tutti insieme con loro, fai un po' la chiusura tu di questa puntata di Si può dare di più, venite, state qua così facciamo la foto finale, salutiamo Emanuele Tiscona dietro la telecamera, sei contento di questa edizione 26esima? Sono molto contento perché ci sono due persone eccezionali, naturalmente si può dare sempre di più, quindi ragazzi non bisogna fermarsi, bisogna continuare ad andare. L'unica cosa che bisogna tenere presente è che bisogna vendersi un po' bene la propria merce, cioè se abbiamo le eccellenze bisogna dirlo, abbiamo delle eccellenze in questi campi, è inutile nascondere, bisogna continuare e bisogna attrarre persone a fare sempre meglio. Bene, grazie, è tutto per la 26esima edizione dell'Escolabio d'Oro. Some say it's just a part of it We've got to fulfill to bull Won't you help to sing These songs of freedom Cos'all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves From mental slavery None but ourselves Can free our mind Oh, have no fear For atomic energy Cos none of them Can you see Si può fare di più Perché dentro di noi Si può fare di più Senza essere noi Come fare, non so Non lo sai neanche tu Ma dicendo se può Dare di più Così Saber di più